Ancora Buti su Leon che stavolta soffre, adesso deve attaccare una palla difficile, la lavora, la trova Savani in difesa, Traviz Alasco, seconda linea, difesa lunga di Bell, di nuovo Leon, pallaccia per lui, tocca il muro dell'Italia che può rigiocare con Traviz, Dragan Traviz vede il muro a 3-7, i tentacoli di Leon e dice, ho un pallone con lì dietro, perché no? Rimandati tutti quanti al settore mini volley, questi sono i tocchi che si giocano nel 2 contro 2, nell'1 contro 1, Traviz si diverte e mette questo pallonetto, fenomenale, guardatelo Time out, ancora time out Cuba, torniamo sulla panchina dell'Italia Andiamo a cercare Leon sia prima che seconda linea e lavoriamo su queste due rotazioni qua, buti e birra in battuta, andiamo!